Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sarà un video breve e sbrigativo. Cambieremo l'ora alla Fiat 500. In teoria, a parte la panda degli ultimi modelli, tutte le autovetture Fiat che dispongono di questo stereo si cambiano tutti nello stesso modo, quindi 500X, 500L e 500. Vi chiedo solamente di iscrivervi al canale. L'avete fatto? Grazie. Anche perché è gratuito per voi, ma per me mi serve veramente tanto, anche per crescere e poter portare materiale migliore sul canale. Adesso, eccoci al video. Andiamo nel nostro radio, vedete che sono le 12. Andiamo su Impostazioni, Data e Ora, e qui è semplicissimo. Più la macchina cambiato d'ora, fine. Ok, il cambio dell'ora è risultato veramente semplice. Noi ci incontriamo in un prossimo video. Ciao!